La 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 Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Con la morte nel cuore vi dico che oggi ricomincia la rubrica Do un voto a Era una rubrica che ho fatto l'anno scudo Non lo so Ve la lascerò qui linkata somewhere Oggi abbiamo uno sfondo un po' simbare leone Perché sono tutto caldo Il tutorial di questo trucco no, non sarà online quando voi vedrete questo video Però non prometto niente perché secondo me l'info box sarà piena di tutti i miei fondotinta Che sono circa 67 Per chi non lo sapesse in cosa consiste questa rubrica Vado a dare un voto estremamente sintetico a tutti i miei fondotinta Faccio una piccola premessa prima che parta l'aereo e mi copra completamente Fatevi una tisana Allora perché ho deciso di rifare questa rubrica? Perché io sono una persona delle cose che non ho lasciate a metà E volevo terminare qualcosa Once nella mia vita E poi soprattutto su Instagram quando faccio il box domande che magari vorrei fossero anche un po' più generiche Giustamente un profilo beauty mi vengono sempre fatte domande Qual è, quale preferisci fra, qual è quello E quindi avevo fatto, vedendo da una youtuber franiera Mi sa che purtroppo è venuta a mancare quella ragazza E ho un po' ricolla qui però amatemi C'è niente Quindi comunque ho dato i voti delle palette e correttore delle cipre Continuiamo con i fondotinta Sicuramente rifarò anche palette correttore cipre Per ampliare quei voti In quanto ho nuovi prodotti Avendo comunque questo lavoro di content creator su YouTube, Instagram e TikTok Seguitemi su Instagram e anche su TikTok Sì, chiaramente Cosa stavo dicendo Ricevo fortunatamente, soprattutto grazie al vostro supporto Tantissimi prodotti da poter testare e raccontarvi Una persona serena, non ha 67 fondotinta La premessa è già troppo lunga Quindi vado a dare un voto Opinione mia personale Non legge, potete ignorarmi completamente Sarò estremamente sintetico Perché devo andare a fare la spesa alle 8, credo E sono le 17.13 Quindi per farvi capire quanta paura io abbia di questo fondotinta Soprattutto se questa rubrica vi piace Mi sto sistemando sul divano Se questa rubrica vi piace lasciate un like Così tutti i miei sforzi saranno ricompensati dai vostri like E capirò che ne dovrò fare altre Non ho male, non voglio Ho cercato di temporeggiare, cosa ho qua? Allora, sostanzialmente cosa cerco in un fondotinta? Se andate a vedere delle vecchie rece mie, lo posso Al giorno d'oggi cerco un fondotinta che sia estremamente leggero Luminoso, rimpolpante, che non si veda Che non faccia strato, che sia sottile E che in combo con la cipra da solo levighi I voti saranno dall'1 al 10 Direi di incominciare con Scrivete e pregate, prego per te nei commenti Con il fondotinta Ovetto Serum di Clinique A questo fondotinta io do personalmente un 8 Col tempo l'ho rivalutato È un fondo che tende a essere più opaco Rispetto a quello che mi aspettassi Tuttavia è molto bello sulla pelle Ha una bellissima coprenza È compatto Io tendo ultimamente a stemperare Quella sua componente un po' mattificante Che non è secca, ok? Su di me chiaramente Mettendo un primer idratante O mettendone veramente molto poco Mischiandolo a una crema idratante Super easy Però l'effetto veramente mi piace Perché è perfezione da morire la pelle E lo trovo molto comodo durante il viso Con una buona durata E il primo Sì però se passa l'aereo Vi piace lo sfondo Simba? Fondotinta di Sephora della linea Good Four Che si chiama Fon Care Foundation L'ho provato nel video Provo tutti i prodotti di Sephora Collection Mi piace tantissimo Darei anche a lui un 8 Perché è molto confortevole sulla pelle Dà l'effetto naturale Tendente ad essere un po' luminoso Non ha come Clinique una componente levigante Oh signore le colorazioni Clinique CN Ivory Mentre Sephora 25N mi sembra Devo dire dicevo Elastico, confortevole, molto leggero Finish naturale, luminoso andante La coprenza di questo è bassina Quindi può risultare un po' delicato Impercettibile su alcuni tipi di incarnati Che hanno esigenze di copertura forte In quel caso non lo consiglierei Però su di me per come si comporta È un bel 8 Sono tutti fondi che hanno resistito A tantissimi decluttering Quindi hanno votazioni abbastanza alte Perché mi piacciono Totalmente disaccordo con quello che appena ho detto Devo dare purtroppo un 4 A questo fondotinta di Charlotte Tilbury Io adoro Charlotte Tilbury Non ho il Magic Light Wonder E il Magic Coso Qui con me perché li ho terminati Non li ho più ripresi E questo qua è l'Airbrush Flawless Filter Purtroppo non mi piace Perché è un fondotinta estremamente coprente Sui miei pori che ci sono Ho una pelle grassa È molto molto materico Si vede È evidente È un blocco Lo trovo poco elastico Decisamente troppo Per la mia tipologia di pelle Si vede che ho il fondotinta Per una questione di naturale Non mi piace Quindi 4 E salutiamo la PR list di Charlotte Tilbury No non è vero scherzo Scherzavo Beautiful Skin Foundation di Charlotte Tilbury Darei un bel 7 Non tolgo i mezzi voti Perché l'altra volta mi avete scritto Ma che voto è 7 e mezzo? Ma che voto è 7 e mezzo? Ma che voto è 7 e mezzo? Ok togliamo i mezzi voti Quindi 7 7 perché ce l'ho relativamente da poco Voglio averci più storia con questo fondotinta Comunque è molto molto bello L'unica cosa che mi perplime Un giorno sì Un giorno no Dipende anche un po' Dalle condizioni della mia pelle È la luminosità A volte la trovo Un po' troppo artificiale Sui miei pori Altre volte è stupendo Quindi I don't know Sicuramente è un 7 Anche quando la luminosità È un po' troppo per me Però penso che Penso di voler capire un attimino Se dargli un 8 in futuro Perché purtroppo io ho dei pori Che mi mettono a disagio Come c'è una minima cosa Che lo illumini La perla solitamente È un po' texturizzante Quindi sui miei pori Non gradisco Quindi è molto bello Molto filtro Very very compatto Very morbido Però insomma ecco Non volo All covered foundation Di Inglot Molto molto carino È un po' troppo coprente Rispetto ai miei gusti Quindi gli do un 7 Inglot reputo che sia un brand Come vi dico ogni santa volta Troppo sottovalutato È chiaro raga che io Mi dite ma perché Tieni questi fondotinta coprenti Innanzitutto Charlotte è nel colore 4 E questa 5 Questo è nel colore 5 Li tengo perché Contenuti Qualsiasi tipo di video E perché riesco a utilizzarli Magari modulandoli Con un olietto Cambiando l'applicazione Insomma Comunque lo reputo Un bel fondotinta Da battaglia Io devo dirvi la verità Essendo che Faccio 3 video YouTube alla settimana Quasi 5 contenuti Su Instagram Tutti i vari contenuti Per i brand Onestamente Certe volte Voglio uscire Senza make up Vi dico proprio La sincera verità Quindi magari La sera non metto niente Questo sarebbe Un fondotinta Per me da sera Quindi da battaglia Mantengo il 7 È veramente carino Su di me si comporta bene Non ha tutte quelle Caratteristiche leggere Che però Mi piacciono di più Signori e signori Un bel 9 Tè sui denti Prism Libre Di Givenchy Favoloso Prism Libre Di Givenchy Ha letteralmente È stato il primo Secondo me Che l'ho preso L'ho detto Oh my god Skincare E Fondotinta E make up Please Oh hanno scritto Luca esposito Sul tappo Oh che cute Colore C240 Un po' rosino Infatti il C Però That's ok È splendido Incarna Tutto ciò Che io Voglio In un fondotinta Che sia Levigante Che sia Leggero Che sia Morbido Che sia Uniformante Che sia naturale Che sia Ruminoso Che sia Rimpolpante Che sia rosa Che sia blu È bellissimo Se avete una pelle Agesta Se avete una pelle Giovane Che vuole proprio Con il boost Di freschezza Di toccosità Cioè È divino Io lo amo Da morire Poi il pack Raga è veramente Da evacanta Ti scippo Casa È troppo bello Catrice True Skin Foundation Nella linea Catrice È il fondotinta Che più si avvicina Al mio gusto Nel senso Ricrea un po' La dimensione Della pelle Gli do un sette Vorrei dare Sette Meno Provi Incaffi Gli do un set Non salgo Oltre Questo Voto Perché È naturale È tipo Pelle È luminoso Però Se malauguratamente Non sono lì Concentrato E cedo Fa un po' Di spessore L'unica cosa È questa Però sicuramente Ha un'ottima performance Per il prezzo Che ha Nell'immaginario Low cost È veramente competitivo Quindi Sette Simpatississimo Close up Foundation Di Nabla 9 per quanto Mi riguarda Perché Questo fondotinta Credo che sia Cioè io ho una pelle mista Quindi voi direte Tutti sti cacchio Di fondi luminosi Durano poco Vanno aiutati molto Cosa che io faccio Non mi pesa fare Perché mi piace Quel tipo di pelle Quando voglio qualcosa Che sia proprio Il mio abito perfetto Sono Due Tre Fondotinta Adatti Quattro Forse cinque Ma qualcuno russa E questo qua È quello di Nabla Gli do 9 Perché Nel Lato luminoso La controparte Soft matte Che quindi Non è pesante Su di me Chiaramente Non è asciutta È un po' dinamica Ma è mega Long lasting Lui è fantastico Su di me Mi rende proprio Chiuso A chiave E so che Arrivo a casa Che go tutto Su E sono contento Questo è un altro Di quelli Che mi piace da morire Vi giuro Zoeva raga Purtroppo Si dorme Su questo fondotinta Questo qua è un 9 Perché Sulla stessa scia Dello skin care Glow Di prism libre Semplicemente È più coprente E quindi Va a Uniformare Molto meglio L'incarnato Immediatamente Nel senso Avendo una coprenza Più alta Già subito L'incarnato Non dovete stratificare Di base Ok Leggero Sottile Luminoso Effetto pelle Bello Rimpolpante Sulla pelle Mi piace Da morire Eccoci qui Allora Se Liquors Che dava 9 A questo Di un anno fa Che solo Vorreste questa tipologia Di fondotinta Di Nars A giornato Oggi Probabilmente Lo ritroverebbe In Zoeva Zoeva È l'evoluzione Della specie Rispetto a Nars Perché Nars È coprente Medio Che arriva Ad alto Sottile Naturale Luminosino Però È Ha molto Quel vibe Da fondotinta Ok C'è Però È sottile C'è Per quanto È È sottile Però È meno Sottile Di questo Arrivato al giorno D'oggi Che è più Leggero Colorazione 120N Me le sto Scordando tutte E Fiji O Punjab Dipende dalla situa Li do un 8 Rispetto a 9 Che gli avrei dato Proprio perché Il mio gusto È cambiato Mi fido Comunque di lui Assolutamente Gli darei Il mio codice PIN Però Preferisco Questo C'è loro Proprio li vedo come La L'evoluzione Del mio gusto Nei fondotinta Non nelle BB cream Allora Posso dire che sono Già Allora 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 Ci sei Do Non avete le allucinazioni Sono due Abbiamo 5 Sil Solita Synchro Skin Self Refreshing E Synchro Skin Self Refreshing Radiant 8 e 9 Easy Sono dei fondotinta Molto belli Molto performanti Questo ha un finish Più opaco Questo ha un finish Più luminoso Se li combino insieme Raga Super C17 Arriviamo serenamente Al 9 e mezzo Pavola Chiaramente dipende da Quante ore voglio stare in giro E che cosa devo fare Vado a scegliere L'uno o l'altro L'effetto pelle assicurato Si muove insieme alla pelle Non viene necessariamente Tanto corrotto Dalla lucidità Dal sebo che vado a produrre È estremamente luminoso In salute Rimpolpato Veramente Shiseido Once again Un altro brand Che è caro Mi rendo conto Sono d'accordo Però la formulazione Di questi due fondotinta È spaziale Tanto quanto è usceno Il correttore Colorazione 240 Quartz Anche qua Qua da un 5 Per me Un fondotinta Bocciato Non è la cosa Più oscena del mondo Purtroppo Veramente lucida Tantissimo Proprio All'uot Non lo so Lucida più di questo Che è molto luminoso In poco tempo Io la lucidità La gestisco Però in così poco tempo Mi passa la voglia Capito Tuttavia L'effetto sulla pelle È molto bello Mi ricordo che la mia First impression Era molto positiva L'ho provata per un mese Motivo per cui Faccio anche quel video là E ho notato purtroppo Questa ingestibilità Sul mio tipo Sulla mia tipologia Di pelle Di lucidità Quindi gli do Un 5 La colorazione Che uso io È la 7 Senti ma Mischiamo un po' Questa situazione Cannone Allora Fondotinta Di Yves Saint Laurent All Hours Questo è stato Credo L'ultimo Dei fondi Che ho comprato No Me l'ha mandato Look fantastic Incavolata Proprio che Proprio che tendono A essere opachi Soft matte Con entusiasmo Che ho affrontato A questo Do un bellissimo 8 Perché è un fondotinta Stupendo Con una bella coprenza Sottile Molto Molto Long lasting Io quando Opto Per un fondo opaco Comunque Non luminoso Non radiant Blablabla L'ho opto Perché voglio La lunga durata Voglio metterlo E non pensarci Veramente Questo qua Soddisfa Completamente Le mie esigenze Assieme a quello Di Nabla È proprio Il go to Per la mia pelle mista Quando voglio Stare tranquillo E sereno Fra due guanciali La colorazione È B30 8 Altra fondotinta Questo è stato Uno dei primi Che ho acquistato Poi in realtà Vabbè Me l'ha rimanato Fantastic Warm Nude La versione classica Di Too Faced Già che ci siamo Parliamo Della versione opaca I fondotinta Li provo Cerco di provare Il più possibile Per quanto concerne Il mio potere Del fare mille contenuti E uscire di casa O stare in casa Con il make up Devo dare un 8 A questo qui È stupendo È un fondo Estremamente Leggero Sembra quasi acqua Da un certo punto di vista Poi riuscite a stratificarla Avete un po' Con la corposità Di fondotinta Però rimane Effettivamente Undetectable È un aggettivo Che Undetectable Medium to full Io lo reputo Da leggero A media Come coprenza Whatever Ognuno pensa Quel che vuole Un bel 8 Il finish è estremamente naturale Non è troppo luminoso Ma non è opaco È proprio la situa Naturale In un modo molto bello Molto naturale Molto sottile Ha una buonissima durata Pur essendo un po' Luminosino A questo devo dire Mi aveva colpito tantissimo Poi il mio gusto Se è voluto Devo dire che gli do Un 6 Perché gli do un 6? Perché in base Anche a un po' Come è messa la mia pelle sotto Devo capire come gestirlo Non ho più La serenità E la fiducia Nude E warm nude La serenità E la fiducia Di utilizzarlo A cuore leggero Comunque Ce ne sono ancora molti Fondotinta Di Make Up For Ever Quello nuovo Ve l'ho messo in mezzo Per vedere Se guardavate Tutti il video Perché so che Questo qua È molto richiesto Lo sto indossando Ora Ce l'ho su Da Mmm No l'ho messo All'1 e mezza Sono le 5 e mezza Vabbè fate voi il calcolo Allora La giornalità che ho io È la Non le capisco mai Y245 1N14 I don't know A questo fondotinta Attualmente Do un Non so se 7 o se 8 Perché lo devo ancora testare Su strada Quindi gli do un 7 L'ho utilizzato 4-5 6 volte In casa Per dei contenuti Il discorso di questo fondotinta E credo di alcuni fondotinta Che come vi parlavo Nel video Un po' per l'opinione Su tiktok In generale Vanno in hype Molto forte Fin dalla prima passata Poi in maniera irrazionale La mia testa Si fa prendere Dall'entusiasmo Quindi mi aspetto Cose veramente assurde Dai fondotinta Quello che ho notato io Di questo prodotto È molto molto bello Sul viso Però è molto standard Cioè non ho notato Levigando sui pori Una coprenza altissima Una coprenza luminosissima Una coprenza super naturale Cioè È molto standard Coprenza naturale Da media Sottilino sulla pelle Chiaro ho messo il fondo Si vede che ho il fondo Però Non è spesso Non è levigante Non lo so Cioè Che ho voto detto? 7 Sì Molto standard Come fondo Bello Nel senso positivo Non voglio essere sempre rompi pelle Però nel senso Mi aspettavo Mi aspettavo molto di più Perché oltre a fare i contenuti Anch'io li guardo E anch'io sono soggetto a hype Come già ve ne avevo parlato Mi aspettavo molto di più Così come Charlotte Ma in realtà Mi dovrei fare i fatti miei Probabilmente Allora Fondotint Di Hourglass This was One of my colpi di testa Perché io ho questa Attrazione Questo motto Verso Hourglass Because it's really bougie A me piacciono le cose bougie Più del low cost Però mi piace anche il low cost E mi ha sempre attratto Questo lingotto Questa situazione Frosted Innanzitutto Colore ivory È formaggio Su di me Quindi già lì Però è very very Asciutto Non spesso Ma asciutto Gli devo dare un 6 Sofferente Perché col seno di poi Cioè È Ok Però è asciutto Compre niente Cioè Non lo so Un 6 Mi dispiace Però Perché ci credevo In lui Ci credevo in lui Bellissimo Di Nudestix Che nessuno Si Coga Io odio Questa cosa Nudestix È un brand Favoloso Ha rotto un po' le balle Con tutti i matitoni labbra Vorrei dei rossetti Punto Buoz Questo qua è un 8 Bellissimo La colorazione È scora Perché è estiva Lo riesco a portare tranquillamente L'ho utilizzata in vacanze Sottile Acquoso Con prensa Veramente Bassissima Scivolosa Naturale Che quasi se va via Non me ne accorgete Talmente naturale Però mi piace molto Perché è perfezione In due secondi Con le mani Si stende da dio Occio Occio Colore 4 Avanti Sotto chi tocca Adesso ne faccio 4 di fila Insta Inza Bake Di Be Perfect Purtroppo è un 5 Troppo coprente Spesso evidente Long lasting Ma su di me Non è bello 333 No N Tonalità Che bello Neonude Di Giorgio Armani Giorgio dell'Armani Colore 4.5 Molto Rimpolpone Come Tipo una BB cream Raga Però bella Rimpolpona Mi piace molto Non ha una coprenza Così bassa Come mi aspettavo Però è naturale Quindi voto Voto 7 Voto 2 raga Glowish Duda Beauty Terribile Texture Luminosa Spessaggio Spessometro Sul mio viso Osceno Bellissimo Questo qua Rinarsa Sieme a Nudestix E a Hyramaniac Di Urban Decay Sono quelli che ho utilizzato L'anno scorso Le sette scorse al mare Veramente Veramente Bello Gli darei Un 8 Molto Molto valido Naturale Glow Luminante Un po' questa cosa Che accomuna Tutti i miei gusti Va bene anche per le pelli Agé Secondo me Così come Così come Il soro Ma mi sa che ve l'avevo già detto E anche questo Un po' quella componente Lire in polpante Luminosa Eccetera Che non ha Perla Va bene anche per le pelli Secche Agé Eccetera Kind and Free Di Rimmel Gli do un bellissimo 7 Mi sembra carino Devo provarlo per più tempo La tonalità che ho io E vanilla Sempre questo effetto Idratante Simil nutriente Quasi Che è bello Rimpolpino Sulla pelle Però non in maniera Così evidente Molto molto carino Quando parliamo di low cost E voglio una cosa Che sia molto in stile BB cream Colorato Eccetera Lui Devo dire che mi è piaciuto Vorrei provarlo Su strada Per più tempo Quindi 7 Rimaniamo in casa Rimmel Devo dare un 8 A questo qua Raga È bellissimo Ho fatto Non so se esce Proprio oggi Probabilmente Sì Una comparata Con Tom Ford Su Instagram Perché sono tutti e due Abbastanza sottili Naturali Luminosi Reggono uguali 75 euro Contro tipo 8 Per me Ma sono da 8 Tutti e due Poi ovviamente Il prezzo La fa da padrona Rimmel È troppo Mal considerata In generale Secondo me Dei fondi tinta bellissimi Con lo di Tom Ford Su di me È pure molto bello Chiaramente Sono fondi Idratanti E luminosi Quindi a me piace Quella situazione là Tipo io Ho la pelle Meno lucida Di quella di Giulia E lei mi pare Che questo Le non piaccia Non è Come vi dicevo I fondi tinta Luminosi Su di me Non sono super indicati Però io Con tutte le accortezze Del caso L'indosso Senza problemi Sono 2,8 Entrambi Con due prezzi Completamente diversi Fondi tinta Di Uoma Beauty Gli do un set Devo dire Che me lo ricordavo Peggio Rispetto a come L'ho provato L'ultima volta Rimane Sempre anche lui Su quella situazione Opaca Opaca Non arida Però è Bello Prepotente Come fondi tinta Quindi gli do un set Potrebbe essere Più sottile Per quanto riguarda Il mio gusto Colorazione T3 Doppia Andiamo nel Bougie Vedete quanta roba Che ho Allora Yves Saint Laurent Touche Cley Molto carino Non mi ha sconvolto La vita Sicuramente più Per una pelle normale Secca Voto Voto 7 E voto 7 Anche Very Valentino Non è per niente Brutto come fondi tinta Sicuramente Visti i prezzi Mi aspettavo qualcosa di più Sono molto standard Come situazione Hanno sempre un po' Di luminosità C'è quello più sottile C'è quello più sottile Quello un pelo più Levigante Un po' Arima non Levigantissimo Quindi comunque direi Che ci muoviamo Tutti e due Sul 7 Pelle normale Pelle normale Con qualche zona secca Pelle normale Secca Sono tendenzialmente Delle formule Molto modulabili Mettete un primer più opaco Yarege Lo fissate con la cipra Yarege Mettete un primer idratante Siete super glow Quindi state sempre Sta sempre a voi Modularli MN2 Un po' Troppo aranciato Questo qua Mentre questo è B40 Più giusto Rispetto al B30 Della Lowers Ahimè Che è quello che Allora Mi ha stancato Tarte Andiamo subito con Tarte Il mio preferito Del 3 Il face tape Gli do Io vorrei dare 7 e mezzo No Gli do un 8 Oggettivamente Un bel fondotinta Perfetto per una pelle mista Che gli piace La coprenza media Che non va necessariamente Al full coverage È estremamente Modulabile Confortevole Si indossa bene Tonalità Light medium 22N Raga io Decido Assieme a voi Io poi vorrei dire La verità Anche in merito a questo Cioè Mi è sembrato Molto basic Il colore purtroppo È veramente troppo scuro Non ce la faccio A godermelo appieno Quindi Non mi sento di dargli Una votazione Più alta Del 6 Perché Non riesco A passarci del tempo Con questo prodotto Ed ho un 6 Anche questo Ora Non mi ricordo Perché vi devo dire La verità più assoluta Ma non mi ha spettinato Mi ricordo che Ogni volta che lo uso Dico Tarte è lo stesso Che sono oggi Di Dior Proprio Nei laboratori Dovevano vendere Quel pack Quel giorno Non ce la faranno male E' proprio triste Sapete Cosa mi sembra Questo video Avete visto Tipo Harry Potter Yorg Cruxley Con il stiletto Che dice Obbliga E la camera Che dice Obbliga A mia bere E tipo Harry le fa bere E mi fa No Basta Ambi pietà Io così Un 4 Allora Appena l'avevo riprovato Luminous Matte Foundation Tonalità Custer Di Uda Beauty Appena l'avevo Ricomprato Mi era sembrato Migliore Del precedente Continuando A utilizzarlo In realtà Quello prima Leggermente Meno Coprente Senza profumo Proprio spesso Che bello Questo Water tone Di Make Up Forever Direi Un 8 Veramente Ultra naturale Perfetto Per l'estate Finish Leggerissimo Naturale A base Cioè È Bello 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 Chiaramente Se cercate Fondotinta Coprenti Assolutamente No La mia tonalità È 1Y35 Ma quest'altro Che questo Di colore È Bello 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 Non lo uso Spessissimo Perché mi è arrivato Verso la fine Dell'estate In pari E poi sono usciti Tanti altri Fondotinta Però veramente Molto Molto Bello Vorrei stare Più al passo Con le uscite di Make Up Forever Perché come vi ho già detto Mi ispira essendo un brand Pro Però nel senso Fatemi sapere Se è una cosa gradita Da parte vostra Se no Altrimenti Mi mettono In pace Is drop Di Fenty Un bellissimo set Vabbè Io metto i mezzi vuoti Basta 7 e mezzo Perché È molto Molto cute Diciamo che Per la tipologia Di prodotto Che è Quindi un prodotto Estremamente naturale Che va a essere Un po' Nel filone Delle skin tinta Non trovo L'effetto blurrante Sui pori Ve lo dico Grazie ciao Però è molto carino Perché è l'opzione Soft matte Quindi quando magari Go caldo Non voglio La luminosity Vado a mettere questo Che è esattamente L'alternativa 7 e mezzo Al fondotinta Di Anastasia Foundation Molto molto bello Oggi Com'è il mio gusto 210 n Il colore Devo stare attento A quanto ne metto Perché è veramente Molto bello Sul mio viso Però Meno è meglio E fondotinta Di Rare Beauty 210 n Gli do Un 7 Non lo suggerisco Cioè non vi sto dicendo Andate e riempitevi Di fondi luminosi Se voi avete la pelle Missa grassa o grassa Chiaramente Ci arrivate anche voi Che non è cosa A me piace Utilizzare quella tipologia Di finish Tuttavia Quindi riesco a vedere Delle peculiarità In prodotti Come questo Non sono calzanti Con La mia pelle Mi raccomando Con questo fondotinta Agitatelo molto bene Perché c'è la pallina E se non l'agitate bene Fa cagare Fondotinta di Guzzi Devo dire Un 6 Cioè Veramente Come se non ci fu Cioè proprio Niente di Irrinunciabile Colore 220 n Troppo giallo E chiaro Cioè raga Non cambia Voglio dire Cioè Mentre 8 Per il Magic Foundation Di Mesauda Non gli do 8 e mezzo In realtà È quasi Non c'è un 10 Credo No forse Non c'è un 10 Però 2 e 10 Anzi 3 e 10 Scusate 8 e mezzo Perché nella soluzione Mesauda Fondotinta più compatibile Con la mia tipologia di pelle Sacro santo Non capisco perché A 20 ml Non 30 Mi irrita questa cosa Però ha un finish Soft matte Opaco Però luminosino Estremamente leggero Raga è veramente leggero Poi basta andare a stratificare Quante volte volete Che non fa Strato Cioè vi giuro Questo è bellissimo Mi piace un botto 8 e mezzo Se non 9 Se mi gira 7 Ed è veramente leggero Perché sicuramente Non voglio svegliare i morti Però è un po' La stessa vibe Per me Idratante Con un po' Di luminosità Che non so Quanto sia Non artificiale Il problema Il problema Soprattutto in questo Che se lo vai a fissare Perché si vuoi un fondotinta Leggero Sottile Impercettibile Quindi tutte le componenti Dei prodotti idratanti Però fissate La sua luminosità Svanisce completamente Ci sono alcuni prodotti Invece che se fissati Rimangono comunque Moltidimensionali Questo qua Non troppo Li do 7 Solo per quello Perché poi una volta Fissato Che è come io Gestisco i prodotti luminosi Perde un po' La sua peculiarità Passiamo a un po' Di Cici Cream Tinted Allora Elf 6 L'avete visto nell'ultimo video Troppo presente Su Il mio viso Per il mio gusto Quindi 6 Il nome è Piazza 7 E mezzo Cici 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 Cream Cosmetics Molto più carina Più carina Di quella Elf Tende anche ad essere Tende anche ad essere Non sto accorto A scapparmi dalle mani E a segnare un pochettino Allora Questa qua Gli do un 7 e mezzo Ehm E' un prodotto Molto netto E la Elo Di Smashbox Secondo me Ovviamente E' tanto Luminoso C'è proprio Tanto Raga E' tipo una Crema Magic Cream Di Charlotte Ma Color pelle C'è proprio Tanto Luminoso Mi faccio vedere Se è tanto Luminoso Però è Molto Bello Però devo Contenermi un po' Col voto Perché non è Quel glow Che io Con le mie Umilissime Inutili Doti Riesco A gestire Perché Tanto Però è bella Allora Luminosilk Di Armani 7 Perché Bellissimo Come sensorialità Come tech E' uno delle Raga Veramente Un fondotinta Così sottile Costa un barile Ho fatto anche la rima Però è molto sottile Però è Cioè si lucida Come Clio Su di me Very very fast Quindi per me Non è Un Non posso metterlo Per uscire Perché devo stare Veramente ogni ora A opacizzarmi Due volte va bene 15 No 7 e mezzo Questo qua è di Smashbox Molto molto carino Che è quello lì Studio Skin 15 hour wearing 15 hour wear Idratante Non l'ho utilizzato tantissimo Devo essere Devo essere sincero 7 e mezzo Perfetto Per la pelle mista Raga C'è sempre questo spauracchio Del make up Made in China Ma Un botto di brand Fanno make up In China Questo qua raga Per la pelle mista E' un 8 Cioè E' un 8 Opaco Long lasting Coprente Non muro Veramente performante E' di She Glam C'è il complexion pro Quello idratante Che non ho qua Gli do un 7 e mezzo Paradossalmente Ho preferito più quello Perché da quello idratante Mi aspetto un pelo Di texture in meno Invece Ha la stessa Quasi la stessa texture Dopo questo opaco Veramente Veramente bello Devo dire 7 al Natural glow Di Dior Pur essendo glow Glowizza Dopo 6 ore Su di me Quindi easy Molto bello Non mi ha spettilato Sia chiaro Non lo consiglierei Una pelle grassa O una pelle mista Perché Se non siete abituati A vedervi col glow E' fastidioso Secondo me Però è molto Confortevole Quindi assolutamente Assolutamente se lo merita Il suo votaccio 2N Tonalità Bella Bella Questa raga Mi ricorda molto Come texture e feeling Il neo nude Di Armani Sono proprio Morbidi Quando penso alla texture Di questo prodotto Di questi due prodotti Penso a delle sfere Perché sono veramente Morbidi Avvolgenti E ci sono quei prodotti Che magari mi mandano Che non sono più scontabili E io È inutile che ve lo dico Perché magari Non sono neanche facilmente Le peribili Ci sono pochi colori Non vi interessano Però è molto bello Fondo tinta di Uda In stick Gli do un 6,5 Mi aveva entusiasmato Prima Di ora Volevo dire È molto cute Per delle pelli Normalis Ed è molto bello In fotocamera Perché è proprio La serosità di questo prodotto Si vede che è molto Si infila molto bene Nei pori Nella texture Fa un po' di piallaggio Però poi In giro Si gonfia Quanto viene prodotto Il sebo Quindi è un po' ingestibile Per quanto mi riguarda Tonalità Custard Arriviamo A quelli belli Allora 9 A questo qua di Dior Raga L'ho preso per gioco Per farci Un reel Mi spruzzo Il fondotinta Con setting spray Con lo spray E tutto È bello 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 C'è proprio È naturale Ma raga Veramente sottilissimo Però ha quella Secondo me A volte i fondotinti Alcuni fanno texture E alcuni hanno texture Non so come farmi spiegare Alcuni aggiungono Altri riempiono Però non a livello del levigare Proprio livella un po' no? Questo qua proprio uniforma Tutti i miei poretti Risulta estremamente Bellissimo Sul viso Molto comodo E L'effetto è veramente figo Potrebbe essere Più opaco di così Per essere completamente Long lasting Però A me piace tanto È la fine Se siete arrivati Fino alla fine Lasciate un like E scrivetemi Ahimè Oddio Non ho neanche La forza di controllare Se ero sotto i denti Ahimè Ahimè Siamo arrivati qua Però pensavo di metterci Molto di più Sono solo i 17 E Allora Questi sono i tre prodotti Che rispecchiano di più Il mio gusto Attualmente Sto vivendo peggio Di quello che è Lo so Sheer glow Di Nars È il fondotinta Più bello Che ha fatto Nars Questo prodotto È Estremamente Sottile È proprio Migliorare L'aspetto Della pelle Con una trasversalità Che va da Pelle secca Pelle mista secca Pelle normale E io che Ho voglia Del glow Veramente Bellissimo Come finish Ha un'ottima durata Ha fatto una performance Veramente Cioè Lo applico E so che sarà Sempre figo Ma poi raga Vi giuro Colorazione Punjab Credo di aver fatto Anche un video Non un tiktok Non c'è Lo metto E sono metà Senza e metà Con Non si vede Se non chiedi Qua sono più Uniforme È bellissimo Secondo me Questa è proprio La concezione Cioè Se una persona Va chiedendo Un fondotinta Naturale Però Valga È lui Cioè Risponde esattamente A quelle che sono Le caratteristiche Del perfezionare Rincarnato Illuminare Non in maniera Finta Cioè Non troppo Illumina dove Sei sporgente Riflette bene Nella luce Perfeziona Amo Dieci Dieci Non so Ve li ho messi In scaletta In realtà Quindi non so Scegliere Questo è un pari Primo merito Un pari Merito Primo posto Perché Dipende Da Da cosa voglio Allora Se sai I due fondotinta O i due prodotti Viso Questo per andare A elencare Scrivilo qui sotto Nei commenti Mentre io mi metto a piangere Perché non so Partiamo in ordine Cronologico Allora Quello uscito Prima È Lo Stay Naked Di Urban Decay Questo ragazzi Come dire È Veramente la risposta Secondo me Ovviamente Per il mio tipo Di esperienza Alle necessità Di una pelle mista Che non ama La coprenza altissima Perché è veramente Perfetto Ha una durata estrema Cioè Veramente Long lasting Rimane Sempre Sottile Non si sposta Fa grip Sulla pelle È Di una coprenza Ha una texture Veramente quasi Non dov'è Non c'è Naturalissimo La coprenza è bassa Secondo me A media Non è a media Un full Non credo Per avvera Cioè No flows Non c'è una cacchio di volta Dove io Che l'abbia provato E abbia pensato Perché oggi fai così Cioè Va bene con tutto Giuro Primer più opaco È più opaco Primer più idratante È più Cioè È proprio Il mio compagno Di vita Se io mi dovessi pensare A fondotinta Mi penserei a questo E al prossimo Perché rappresento Un po' le mie fasi Però con moderazione Quindi la zona Un po' più opaca Di quelle che sono Le necessità Della mia complexion Che mi dice Oh zio Vuoi essere luminoso Quanto vuoi Ma mi lucido Lui no E 10 Assolutamente E poi Skin Realist Raga Questa è la seconda Bozzetta Tonalità Dual Light Skin Realist Raga Penso che sia Il prodotto Di cui ho più parlato In assoluto In maniera Estremamente spontanea Mosso da un entusiasmo Comprovato Da aprile Oggi Perché Skin Realist Mi rende la pelle Bella Il concetto è proprio quello Migliora Migliora la mia pelle Ma la cosa che Mi ha insegnato Skin Realist Che poi Nel senso Sapete che io sono fan di Nabla Ma sono sempre obiettivo Me lo dico da solo Perché credo di esserlo Poi magari non lo sono per alcuni Quindi Un po' come i cantanti No Quando i cantanti Iniziano a cambiare genere Vi prendono per mano No Perché siete fan Quindi Una roba che magari Fatta da un altro cantante Beh ma che è sta roba Chi la guarda Fatta dal cantante preferito Ci state dentro Quando loro Mi dissero Una crema Colorata Perché è una crema Colorata No fondo Io ho detto Vi giuro Quello che ho pensato Io ho detto Perché Un saluto Alla Piardo Io sono sempre carino Però dentro Io ho pensato Perché è una crema Colorata E In realtà Essendo Che a me Piace tantissimo Nabla Ho scoperto Ho avuto Lo step Per scoprire Questo prodotto E Mi ha cambiato Proprio Mi ha proprio Fatto Lasciare andare Il full coverage E credo che Quando questi prodotti Fanno una cosa del genere Io vivo un po' così Il make up Cioè per me è molto Viscerale Come cosa No Io me lo ricorderò Per sempre Sky Realist Mi ricorderò per sempre Stai Naked Che non volevo comprare Se l'avevo provato Omar Non lo volevo comprare E Ha cambiato un po' Come ho anche Vivo la mia pelle Non ho più L'ansia Dell'avere bisogno Della coprenza Anche se I brufoli Sì ok Mi sistemo Però Vai tra Ed è proprio L'accompagnarmi Nella anche Vai struccato A volte Cioè It's ok Non succede niente Perché è veramente Una coprenza Super naturale Bassissima Quello che Questo signore qui Vince Su tutti Oltre al fatto Che incontra Il mio gusto È che è rimpolpante Oggettivamente Su di me Soggettivamente Oggettivamente Su di me Rimpolpante E Mi ha portato In Un mondo Di luminosità Effetto naturale Abbracciare un po' Anche la mia sitia I miei pori Quindi Io questi due Me li porterò Per sempre nel cuore Perché Sono i miei go to Cioè con questo So che devo andare Con la cipria A manetta Qui Mi regge E mi regge bene Per essere tanto Lumioso Questo so che anche se Mi scordo di opacizzarmi Tanto mi dura Sembro sempre naturale Sembro sempre Fesco Sembro sempre Perfezionato E sono i miei Prodotti viso preferiti Ah C'era anche il fondotinta Di Natasha Denona A questi due Da 10 A questo da un 8 Molto molto bello Un po' Su questa scia Un po' più asciutto Come è stato emotional Questo finale Ragazzi Siete arrivati Fino alla fine Lasciate un like E un commentino Fatemi sapere Quanto sono malato A fare A fare Tutta questa escalation Spero che sia stato chiaro Se avete Qualche dubbi In merito Magari Non Afferrate proprio Va bene Per la pelle Grassa Mista secca Ho voluto Sintetizzare un po' Affidandomi Alla vostra logica In caso Scrivetemi nei commenti Sono assolutamente lì Per rispondere Niente Il video è terminato È lunghissimo Vi ringrazio Come sempre Per averlo guardato Soprattutto I temerari Che sono arrivati Fino a qua E vi mando Un bacione gigante Vi voglio un sacco Vi voglio un sacco Di beni Ci vediamo Venerdica Da un video Super figo Specialone Con un ospite Ciao